Cucini, andiamo di nuovo su Cucini e non a caso, perché il prossimo anno sarà dedicato completamente a Giacomo Cucini perché si celebra il centenario della morte e quindi tutte le manifestazioni, tutte le celebrazioni si susseguiranno in tutto il 2022 fino all'inizio dell'anno successivo e quindi rimaniamo su Cucini e torna con noi il nostro votenore, Mauro De Santis con un'opera notissima, con il Nessun Dorma della Turandot, che sappiamo tutti è considerata una delle più importanti e coinvolgenti romanzi della nostra storia, della storia della musica. Durante la strofa il canto del tenore non si espande oltre lo stile di un arioso e il discorso musicale è condotto dall'orchestra, le cui armonie estremamente piccanti sono addolcite da una timbrica di afana basata su plettri, con sordina, arpa e fisarmonica, il maestro Mauro De Santis Nessun Dorma Nessun Dorma Nessun Dorma Nessun Dorma Nessun Dorma Nessun Dorma Carà, sulla tua banca lo dirò quando la luce spenderà. E il mio bacio scioglierai silenzio e tifamia. 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 Grazie.